A Caprezzo sulle alture di Verbania è nata ai primi di dicembre la prima scuola in Italia per educatore al movimento per malati di Parkinson. Perché e perché questo tipo di movimento giova a questi pazienti? Il problema del Parkinson è legato al movimento, all'incapacità di potersi muovere coerentemente e correttamente. Quindi tutti i nuovi studi impongono oltre alle medicine anche un grosso movimento per stimolare la produzione di dopamina. Questo movimento deve però essere fatto anche in modo corretto e continuativamente perché il problema di questa malattia è proprio il fatto che man mano che va avanti continua a peggiorare. La situazione generale quindi è quella di insegnare al malato ma anche a tutto il mondo che circonda il malato, quindi soprattutto i familiari, gli accompagnatori e anche chi vuole poi proporre nuove attività sportive di partire avendo già una base corretta sia sulla camminata che la postura, la respirazione e anche i metodi di rilassamento. Questa scuola è riconosciuta da tutte le associazioni nazionali che si occupano di malattie di Parkinson e quindi è rivolta sia a futuri tecnici per questo tipo di attività sia, come diceva prima, le famiglie. È indirizzata a chi vorrà diventare formatore, cioè l'educatore vero e proprio che poi entrerà nelle varie associazioni, si sposterà nei vari luoghi per insegnare ad altri. Mentre invece nelle varie associazioni in giro per l'Italia andremo a proporre serate e seminari.